Dare nuovo slancio al turismo della provincia dolomitica esaltando nel contempo le sue tante eccellenze. Questa da sempre la mission del consorzio DMO Dolomiti prossimo alla completa trasformazione giuridica in fondazione e vicino inoltre alla conclusione di uno dei suoi progetti portanti, Vivere le Dolomiti. Ci ha permesso di fare tutte le azioni che abbiamo fatto nel territorio, è stato coordinato e gestito dalla provincia in sinergia con la DMO e a conclusione di questo progetto che si concluderà nel 2023 sono stati assegnati il famoso milione di euro a tutti i consorzi tramite bando e le ultime due azioni importanti sono il sito di destinazione e l'agenzia di comunicazione che sono state incaricate dalla provincia per fare il sito e per seguirci su tutta la campagna comunicativa. Un ventaglio di azioni per supportare concretamente l'intera filiera turistica dove si concentra il 20% dell'occupazione provinciale pari a circa 15.300 addetti. Il nuovo portale della DMO farà il suo debutto il 13 febbraio alla BIT di Milano manifestazione internazionale dedicata al turismo. Metterà in rete tutti i consorzi, tutte le attività ricettive, tutte le esperienze e tutti gli eventi del territorio. È stato possibile perché la piattaforma di questo sito è una piattaforma molto evoluta e l'abbiamo agganciata al sistema che ci è stato reso gratuito dalla Regione Veneto che è l'IDMS regionale. Con un semplice clic, l'occasione per scoprire e riscoprire le meraviglie e le opportunità offerte dal contesto dolomitico. In un unico portale diamo un'offerta turistica integrata a 360 gradi. Con Casa Sanremo inoltre, in occasione dell'imminente festival della Canzone Italiana 2023, facendo squadra con l'ente provincia, la Camera di Commercio e le associazioni di categoria, la DMO porterà il territorio bellunese a mostrarsi a livello nazionale e internazionale raccontando la magia di una realtà unica.